Ventinovesima Domenica del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo, Gesù diceva ai Suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice, che non temeva Dio, ne aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva, fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé, anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse, ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai Suoi letti, che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Commento al Vangelo della Domenica di Don Luigi Maria Epicoco Propose loro ancora questa parabola, per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Prima di addentrarci nello specifico della parabola raccontata da Gesù, c'è utile soffermarci su questa breve indicazione. Dovevano pregare sempre e non stancarsi. Infatti, la preghiera è in realtà l'ostinazione della preghiera, nel senso che la sua qualità non è dettata da chissà quale performance o da quale sensazione di benessere, bensì dal continuo tentativo di cercare di pregare, di provare a pregare, di tentare di pregare sempre, contro ogni ragionamento che ci dice di non farlo più, e contro ogni sensazione che ci dà l'impressione di essere in realtà soli a parlare con noi stessi. Questo credo sia il motivo per cui Gesù racconta la storia di questa vedova che chiede giustizia a un giudice, che non temeva Dio e non aveva rispetto di nessuno. Non è forse la condizione che tutti sentiamo molto spesso nella preghiera? Invece di sentirci accolti, molto spesso ci sentiamo rifiutati. Invece di sentirci ascoltati, ci sentiamo ignorati. Invece di ricevere giustizia, riceviamo indifferenza. Ma è davvero così? Hanno davvero ragione le nostre sensazioni? Gesù dice che, anche se le nostre sensazioni dicessero il vero, la cosa che conta di più è l'insistenza. Benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché, venendo a insistere, non finisca per rompermi la testa. Se persino una persona cattiva fa un ragionamento simile, immaginiamoci colui che, per definizione, misericordia, amore, bontà, benevolenza, e che ci è stato annunciato non come un Dio lontano, ma come l'Emanuele, il Dio con noi, ma come padre. Ascoltate quel che dice il giudice disonesto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi letti, che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Ci vuole infatti fede, per pregare, e molta audacia.